Il supporto alle Fondazioni Comunità oramai è diventato una costante per la Fondazione Caribo da quando è avviato appunto il progetto Fondazioni Comunità. È un progetto che è basato su una convinzione molto forte che è quella di aiutare in modo diffuso e sostenere in modo diffuso dei soggetti che siano soggetti riconosciuti e credibili nel territorio perché in questo modo la capacità di dare risposte che sono più vicine ai problemi, più vicine alla conoscenza delle persone e più in grado di legare le persone tra di loro e con le esigenze del proprio territorio è una logica, una linea di lavoro che può essere presidiata in modo più forte con le Fondazioni Comunità. In questo quadro sta la collaborazione tra la Fondazione Caribo e la Fondazione Comunità Bergamasca che si muove come sempre sui temi in particolare del contrasto alla povertà e delle azioni solidaristiche e che in questo ultimo periodo ovviamente tocca anche il tema della Capitale della Cultura che vede coinvolta unitariamente Bergamo e Brescia. L'operazione della Capitale della Cultura però di nuovo è un'operazione culturale molto importante anche per consolidare legami di comunità che è lo sforzo costante di Fondazione Caribo e credo di poter dire anche delle fondazioni di comunità. Grazie.